Fra i 32 uomini a bordo della nave cargo partita dalla Turchia e sbarcata al porto di Salerno non si registrano casi covid. Tutti negativi i tamponi effettuati nella notte a ruggi ma quattro clandestini, tutti di origine asiatica, risultano feriti. Otto invece si sono dichiarati minorenni. La macchina organizzativa, coordinata dal prefetto Francesco Russo, ha visto la partecipazione delle forze dell'ordine della Capitaneria di Porto, dell'ASL, della Croce Rossa e del Comune di Salerno. Ci preoccupiamo più dell'accoglienza quindi poi subito dopo incominceremo a capire, a fare dei colloqui individuali per poter poi capire un po' come mai sono arrivati a Salerno, se intendono fermarsi a Salerno. Noi ci accuriamo per intraprendere un idoneo percorso presso le comunità, un percorso di integrazione. Ma la vicenda ha scatenato la polemica politica. Il coordinamento della Lega in Campania ha fatto sapere che si attiverà per capire se le coste regionali sono entrate nelle tratte dei trafficanti di esseri umani. Il partito di Salvini si chiede anche se ci sia un interesse ad alimentare il business dell'immigrazione in provincia di Salerno. Il caso è finito anche in Parlamento, come ha spiegato il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, ad 8 Channel 696. Io reputo che la situazione sia veramente gravissima. Voglio ricordare che negli anni al porto di Salerno sono già arrivate decine di navi con immigrati che poi sono rimasti in parte sul nostro territorio, liberi di scorazzare.